ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come simone antolini seduto nel salotto di pomeriggio 5 di barbara d'urso rivela come ha reagito la madre alla sua relazione con alessandro cecchi paone il 22 n il giornalista 61 n legati da un anno fanno sul serio in programma c'è per loro l'unione civile era legata all'ideologia cristiana sottolinea riferendosi al genitore la mia famiglia ora è d'accordo spiega antolini all'inizio mia madre era molto chiusa legata all'ideologia cristiana il ragazzo due mesi prima di compiere 18 anni ha avuto una figlia melissa che ad agosto compirà 5 anni cecchi paone come più volte detto vuole adottarla a carmelita precisa la figlia di simone mi chiama zio fin da agosto io vorrei poterle dare certezze affettive ma anche economiche e lavorative per fare tutto questo bisogna che ci si sposi la prima cosa che faremo sarà l'unione civile che è l'unica cosa che possiamo fare qui in italia io sono per il matrimonio egualitario è un diritto che va riconosciuto sottolinea il giovane per il quale la differenza d'età con il divulgatore scientifico non è mai stato un problema la mamma della piccola inizialmente non è stata entusiasta del legame di simone col giornalista la mamma della bambina inizialmente non l'ha presa bene perché l'ha scoperto dai giornali poi ha capito perché quando lei era in romania io e la bambina abbiamo passato all'estate insieme ad alessandro ed è stata serena sull'adozione però ancora non è preparata antolini poi chiarisce lei sta lavorando e la tiene tre quattro volte al mese la tiene poco attualmente melissa sta con noi con me ed alessandro e vive benissimo questa cosa cecchi paone precisa da ex etero l'idea di occuparmi di una bambina non mi sconfinferava infatti lui non me l'ha detto subito perché temeva che scappassi e invece ho scoperto che grazie a questa sua capacità di essere sia madre che padre accuditivo affettuoso ma anche autorevole e severo se necessario ho trovato anche questa capacità grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti grazie a tutti